Cari laureandi e cari laureandi, oggi è per voi una giornata importante. Concluderete il vostro corso di studio con l'esame di laurea, raccogliendo in tal modo i frutti dell'impegno e della passione che avete profuso lungo il percorso. Sono orgoglioso di questo traguardo che state per raggiungere e ancora più sono fiducioso rispetto al vostro futuro, che, conclusosi questo particolare momento, aprirà nel tempo nuove e inattese prospettive. Chi avrebbe pensato, ad esempio, che fino a poche settimane fa tutte le attività didattiche, compresa l'esame di laurea che oggi state sostenendo, si sarebbero dovute trasferire su una piattaforma telematica. Anche questo è l'umanesimo che innova, che è il tratto distintivo della nostra Università. Un test veramente impegnativo per noi, che affrontiamo con fiducia e con sicurezza. A voi e alle vostre famiglie desidero esprimere un sincero ringraziamento per aver scelto l'Università di Macerata ed averci affidato la vostra formazione. Sono fortemente convinto che il periodo trascorso all'Università lascerà un segno indelebile in ognuno di noi. Negli anni a seguire, spesso, mente e cuore verranno ricondotti alle giornate maceratesi, ai luoghi, ai compagni di corso, ai docenti, al personale dell'Ateneo, alla città che vi ha accolto e che ha contribuito a costruire le persone che sarete nel frattempo diventate. Non resta che farvi un augurio sincero per il vostro futuro immediato e prossimo. Come sapete, l'Ateneo propone corsi di laurea magistrale di alto livello, corsi di dottorato e un ampio ventaglio di corsi post laurea. Sarei molto contento e onorato se decideste di proseguire il vostro percorso formativo ancora con noi. Un cordiale saluto consentitemi anche alle vostre famiglie che vivono con gioia il raggiungimento di questo importante obiettivo e che l'Ateneo festeggerà insieme a voi in una cerimonia pubblica non appena avremo superato questa difficile ma transitoria circostanza. In bocca al lupo per l'esame e un ringraziamento al Presidente e ai componenti della Commissione. Noi continuiamo ad avere fiducia nel futuro e con questo ancora una volta cordialmente saluto tutti voi.